Una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco per spegnere i roghi appiccati ai cumuli di spazzatura che sono ancora per strada. Gli incendi si sono sviluppati sia in periferia sia in centro. Non è evidentemente bastata per placare la rabbia di esasperati e di incivili la comunicazione di ieri della RAP che ha ripreso la raccolta a pieno regime promettendo che la città tornerà pulita entro la festa dell'Immacolata. Tra gli interventi di ieri notte da segnalare quelli in via Sirio, in Corso Calatafimi, in via Gustavo Roccelle, in via Belmonte Chiavelli, in via Epifanio Lipuma, in via Pietro dell'Aquila, in via Felicia Impastato. In alcune zone come Alceppa, Borgonove e Lozenne le squadre dei pompieri sono state costrette a più interventi perché oltre a spegnere le fiamme nei cumuli di rifiuti hanno dovuto pure circoscrivere incendi che rischiavano di estendersi pure alle automobili posteggiate in prossimità dell'immondizia. Incendi che seguono quelli della giornata di ieri a Borgonuovo oltre alle fiamme i pompieri hanno dovuto fronteggiare anche una sassaiola.